Allora giovani amici di Facebook, torniamo a Incauto Unboxing e questa volta facciamo l'unboxing di una delle cose più, diciamo, incautate ultimamente un battery bank, tutti li vogliono, tutti li cercano, sono venduti ormai dappertutto in tabaccheria, al bar, trovate espositori che vendono battery bank di tutte le qualità il problema è trovare il migliore, o comunque uno che è degno di nota quindi i fattori da valutare sono ovviamente il costo, le dimensioni, importantissimo la capacità, quindi quanto riesce a ricaricare e aggiungere di autonomia ai vostri device e l'output, cioè in quanto in fretta ricaricano c'è un po' di tutto online, i dati che vengono dati, scusate la ripetizione, solitamente spesso non sono neanche veritieri e quindi io voglio un po' andare a verificare questo particolare battery bank di Raw Power che è in offerta attualmente su Amazon costava 35 euro, adesso ne costa solamente 16, è un 6000 mAh per cui è anche abbastanza diciamo generoso, non è troppo grande, cosa ripeto molto importante e ha un output dichiarato di 2,1A che è tanto in realtà quindi in entrata 1,5A dichiarano 5V 1,5A in uscita 5V 2,1A perché sono importanti gli A? Perché più A avrete in uscita dal vostro battery bank più velocemente si ricaricherà la batteria del device a cui l'avete collegato altra cosa fondamentale e qui comincio a tirarlo fuori dalla scatola sono anche le dimensioni del battery bank perché chiaramente è facile comprarsi un 20.000 mAh gigante però è anche molto scomodo poi da portarsi in giro perché poi la cosa bella dei battery bank non è solamente utilizzarli in giro intanto qui c'è un ringraziamento di Raw Power ma dicevo è importante che non sia troppo grande perché è comodo utilizzarlo anche in mobilità sia a casa che in giro cioè per esempio una cosa classica che racconto sempre e che mi piace fare la sera arrivo a casa e invece che lasciare il cellulare che ovviamente scarico a quel punto attaccato al muro e inutilizzato cosa faccio? collego un battery bank sufficientemente piccolo direttamente al cellulare e continuo a usare il cellulare mentre questo me lo metto in tasca o lo lascio appoggiato sul comodino o sul divano quindi riesco a continuare a utilizzare il mio cellulare anche la sera mentre sta ricaricando senza dover lasciarlo attaccato al muro alla presa elettrica eccetera e quindi ripeto è importante che questi battery bank non siano troppo grandi troppo ingombranti questo di Raw Power diciamo che è balzato alla mia attenzione per svariati motivi prima cosa è molto economico adesso in offerta 16 euro meno di così per un 6000 mAh è veramente difficile da trovare secondo ha una buona capacità 6000 mAh non sono certo pochi terzo ha delle dimensioni diciamo decenti per un 6000 mAh è anche quasi piccolo lo vedete lo vedete è veramente piccolo quarto e ultimo ha un output importante perché come dicevo vengono dichiarati 2,1 mAh in uscita allora vediamo insieme è disponibile in diversi colori c'è bianco, blu, nero, oro e rosa io ho preso quello bianco che è un po' più froscio chiaramente potete prendervi anche nero che è un po' più anonimo rosa che è maxi froscio sino c'è anche rosa che è iperfroscio e anche blu che è forse quello più normale di tutti sul fronte abbiamo una serie di led che probabilmente si illuminerà il logo raw power sul retro abbiamo varie informazioni tra cui ancora input 5V 1,5A output 5V 2,1A le porte allora abbiamo un led che è fondamentalmente una torcia elettrica quindi questo è uno dei tanti che fa anche da torcetta elettrica abbiamo una porta USB standard marchiata iSmart che è questa diciamo tecnologia di raw power che permette di adattare l'output in 1000A in base al device cambiandolo sempre a l'amperaggio migliore per i diversi device è un gran pippone che in realtà significa che lui prova a tirare fuori i più ampere possibili in base a quanto riesce a ciucciarne il device che gli collegate e adesso lo verificheremo e poi abbiamo una micro USB per ricaricarlo che dovrebbe essere da 1,5 Ampere ora allora detto questo andiamo a vedere se effettivamente gli Ampere emessi da questo raw power sono i 2,1 dichiarati massimi dico massimi perché so già che non ci arriverà praticamente mai a 2,1 Ampere però voglio verificarlo per davvero come faccio a verificarlo lo faccio con un misuratore di Volt Ampere lungo diciamo la connessione e quindi collego il misuratore al al mio power bank che mi darà i Volt in uscita e gli Ampere che scorrono in questo caso 0 vediamo 5,27 Volt e 0 Ampere perché ancora non ho collegato nulla utilizzo per questa prima prova il cavo fornito insieme al power bank che dovrebbe essere diciamo di buona qualità quindi lo collego e lo collego a un tablet in questo caso un Nexus 9 più o meno scarico e vediamo quanti Ampere fornisce al Nexus 9 allora fornisce abbiamo 5,6 Volt 1 Ampere 43 si vede 1 Ampere 42 1 Ampere 33 insomma più o meno 1 Ampere e mezzo siamo stiamo larghi provo a cambiare cavo così vedete anche la differenza uso un cavo qualunque così questo vi fa capire anche quanto è importante poi il cavo e qui siamo 5 Volt 19 sempre e questa volta 0,44 Ampere quindi già siamo a un terzo di prima ricordo che più Ampere passano più velocemente si ricarica il device cioè più velocemente esce la corrente dal dal battery bank e va al device provo anche a ricaricare un iPhone così vedete sia device Android che utilizzo prima un cavo originale così proprio tagliamo la testa al toro cavo originale Apple e vediamo quanto ricarica allora con un cavo originale Apple 5 Volt in uscita ovviamente 1A06 quindi non certo 2,1 1,04 1,05 battiti lì più o meno attorno a 1A provo a usare un cavo compatibile ma certificato chiaramente altrimenti neanche andrebbe quindi certificato Apple ma non originale 5 Volt rotti e 1A17 quindi 1,1 1,13 1,12 eccetera allora fatta questa prova adesso che significa tutto e niente chiaramente perché secondo Raw Power questa porta iSmart iSmart dovrebbe modificare l'amperaggio in uscita in base al device quindi voglio credere che sull'iPhone lo lo rallenti fino a 1A e su Android o su questo tablet poco di più in ogni caso abbiamo visto come in realtà a 2A non ci arriva praticamente mai a meno che tutti i miei cavi non siano particolarmente stronzi da questo punto di vista però ho utilizzato anche il cavo incluso e quindi c'è poco da dire con il cavo incluso su Android arriva a poco più di 1A 1,5A questo chiaramente non significa che non vi consiglio comunque questo battery bank che come detto ha una buona capacità dichiarata ha delle dimensioni più che oneste abbastanza piccolo da essere tenuto in tasca ha un profilo sensato e comodo da tenere in tasca appunto ha un costo molto basso perché 16€ sono veramente pochi per un 6000 mAh ha la comodità di avere anche la traccia elettrica che vabbè è una minchiata però è una cosa in più e anche questa fantomatica porta iSmart che dovrebbe arrivare a 2,1A ma che abbiamo visto almeno nelle mie prove qui al volo non ci arriva ma che comunque si attesta attorno al classico ampere che poi è dove arrivano praticamente tutti ci sono molti power bank che in realtà arrivano a 0,3 0,4 in uscita anche se ne dichiarano molti di più questo è quanto è comunque consigliato visto il prezzo la capacità e le dimensioni raw power si chiama l'aster series external battery bank 6000 mAh è disponibile in vari colori ora su amazon c'è il link ovviamente paraculo qui sotto qui sotto il video se lo cliccate ci fate un favore visto che ve l'abbiamo consigliato eccolo qua raw power power bank alla prossima ciao ragazzi ciao